Prendi il disegno di legge che sta al Senato per la proprietà popolare della moneta e metti in discussione. Io non dico che lo devi approvare, per carità, ma si dice che siamo in democrazia, in democrazia va il principio della pluralità delle opinioni. Allora, noi democraticamente vogliamo che il ministro o il sottosegretario o il governo o i partiti che stanno a Parlamento al Senato mettano in discussione il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta. Due sole cose, o voteranno a favore o voteranno contro. Allora cominciano a essere due.